Come docenti siamo chiamati continuamente a progettare le lezioni, scrivere verbali, valutare, formarci, sapere adottare strategie e prendere decisioni. Ma queste sono solo alcune delle azioni del nostro lavoro. Ma come non soccombere alle decine di attività che siamo chiamati a svolgere? Esistono software che possono aiutarci nell'organizzazione della vita lavorativa. Questo corso si prefigge l'obiettivo di analizzare e mostrare l'utilizzo di una serie di applicativi per l'organizzazione del lavoro in ambito scolastico e per la condivisione online delle fasi di progetto e gestione di contenuti didattici. Analizzeremo software per la gestione del tempo lavoro nostro e dei nostri studenti, per pianificare attività di lavoro, per gestire del tempo, per condividere le fasi di sviluppo di un progetto, per realizzare una scrittura collaborativa e mostrerò soluzioni per realizzare blocchi appunti da trasformare immediatamente in slide o da condividere con i nostri studenti. Saranno tutte soluzioni che consentiranno di pianificare le fasi di un'attività didattica o più in generale di un progetto e decidere gli obiettivi con le parti interessate, gestirne risorse, vincoli come ad esempio l'ambito di intervento, i tempi e i costi. Vi aspetto quindi al mio corso. Grazie a tutti.